Dire basta alla violenza di genere e accendere i riflettori su una piaga, quella del femminicidio, che diventa sempre più allarmante. E' quanto si propone di fare l'Associazione Impegno Donna con una manifestazione rivolta a tutta la città che prendere il via a Foggia oggi 14 marzo da Piazza Giordano alle 17.30. Fortemente voluto e promosso da Impegno Donna, sostenuto dai centri antiviolenza privati di Puglia, il corteo vedrà la partecipazione e il coinvolgimento di numerose associazioni cittadine dell'intera regione e intende ricordare le donne uccise in questa provincia. Federica, Troia, Nicolina, Dischitella rappresentano soltanto gli ultimi femminicidi in ordine di tempo e nascondono troppo spesso situazioni di disagio e violenze taciute che delineano un'emergenza culturale cui le istituzioni devono far fronte. Ma sono ancora troppo poche le donne che denunciano. Per farlo sono attivi sul territorio numerosi centri antiviolenza. Quello di Foggia si trova in via Giacomo Matteotti. Lo sportello è aperto innanzitutto tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 18.30. I servizi ad accesso gratuito e in rispetto dell'anonimato e della riservatezza sono la consulenza psicologica, l'accoglienza sociale, l'accompagnamento presso enti e istituzioni, la consulenza legale e i gruppi di autoaiuto. In più abbiamo la possibilità di intervenire quando il rischio per la vittima è molto alto e quindi parliamo di un pericolo di vita per lei e per i propri figli con una messa in sicurezza, che è un intervento specifico che prevede l'inserimento della donna in via cautelativa presso una casa rifugia del territorio. Il tutto per concedere a noi operatori di lavorare sul caso affinché venga riconosciuto il suo diritto alla vita, venga tutelata.